Stati Uniti e Francia con un palmo di naso. Il Brasile firma un contratto per l'acquisto di 36 caccia Gripen NG della svedese Saab per una cifra stimata di 3,6 miliardi di euro. Il governo brasiliano ha dunque scartato a sorpresa i francesi Rafale e gli statunitensi FA-18 Super Hornet di Boeing. La decisione pone fine a una trattativa durata 10 anni.